Da oltre 30 anni il ristorante Arcobaleno a Cava dei Tirreni significa qualità e convenienza. A Cava dei Tirreni nasce l'ufficio per l'amministrazione condivisa. All'indomani dell'approvazione in Consiglio Comunale del Regolamento sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani, viene compiuto un altro passo in tal senso. Un'opportunità per i cittadini, associazioni, gruppi informali e comitati di quartiere che vogliono iniziare un percorso collente per prendersi cura e riqualificare spazi pubblici, aree verdi, immobili in disuso e in degrado. Al fine di semplificare la relazione con i cittadini, il Comune di Cava dei Tirreni ha dato il via libera alla creazione di un'unità organizzativa per il presidio del procedimento di realizzazione dell'amministrazione condivisa. Tale unità è stata affidata al coordinamento del dirigente del secondo settore, governo del territorio, ambiente ed attività produttive, Luigi Collazzo. Cava dei Tirreni è uno dei 209 comuni italiani che ha adottato il regolamento per l'amministrazione condivisa dai beni comuni. Proprio settimana scorsa, giovedì scorso, abbiamo fatto il secondo passo per mettere poi in atto a tutti gli effetti il regolamento sui beni comuni. Infatti la Giunta ha deliberato l'ufficio dove il cittadino può rivolgersi per tutti gli atti che poi si dovranno fare per avere le collaborazioni tra i cittadini. Questo è veramente uno strumento molto importante. Io infatti dopo pochissimo che sono diventata assessore, subito abbiamo portato in Consiglio Comunale questo regolamento che permette di fare tantissime cose. Tutti i cittadini singoli associati possono collaborare direttamente con l'ente. E questo è veramente importante perché per la manutenzione anche dei nostri beni, sia materiali che materiali, con i cittadini attivi risulta molto più semplice appunto tenere sotto controllo, tra virgolette, e manutenere alcune strutture. Si fa l'esempio delle ville con dei patti di collaborazione che possono essere sia semplici che complessi in base appunto al lavoro che il singolo cittadino e l'associazione va a svolgere. Si vengono istituiti questi patti all'interno dei quali vengono stabiliti tutti i criteri, tutti gli obblighi, diritti e doveri che ci sono appunto tra l'ente e il cittadino e il singolo cittadino. Quindi dicevo, come le ville, ad esempio, un gruppo di cittadini facendo un patto di collaborazione, in questo caso semplice, con l'ente, può prendersi cura di una villa e quindi manutenerla e tenerla sempre pulita. Con la creazione dell'ufficio per l'amministrazione condivisa diventa pienamente operativo il regolamento che consentirà di mettere in campo una serie di azioni che faranno diventare i cittadini parte attiva della città, permettendogli di far vivere luoghi e progetti che oggi, per mancanza di risorse umane e finanziarie, non si riesce a sfruttare al meglio. In modo informale ci è arrivata qualche richiesta. Adesso, ovviamente, avendo istituito l'ufficio, tra l'altro venerdì alle 15.30 avremo un incontro al Comune con l'architetto Collazzo e il segretario generale, proprio per definire un attimo il tutto, in modo che partiremo il prima possibile con questi fatti di collaborazione. Spero che i cittadini saranno in tanti ad aderire a queste iniziative.